Che cos'è MyStreet.foto? È un social network dedicato a tutte le vie del mondo. Un luogo dove la gente può scattare la propria foto, inviarcela, mandarcela e portare l'attenzione a quella che è la storia che c'è dietro quella foto. Partiamo da Milano, ma in realtà siamo già un po' dappertutto. Sant'Ego del Cile, Buenos Aires, Klagenfurt, Madrid, Roma, Napoli, dappertutto. Ogni foto, anche se è ferma, è come se vivesse un sasso. Guardate meglio le cose, i dettagli, le storie, i racconti, le persone. Fermatevi a vedere anche la vostra via. Fermatevi a vedere anche dei luoghi in cui normalmente la gente non si ferma, perché va a vedere le cose più note, più conosciute, più famose. Invece ci sono tantissime altre cose che la gente non guarda, ma solo per mancanza di abitudine. È un'educazione alla cultura dello sguardo, dell'immagine. Le strade sono piene di storie, piene di vissuto, piene di cultura e soprattutto di identità. Ecco, noi vogliamo dare proprio un'identità alle vie e lo vogliamo fare con le vostre immagini, chiaramente. Da adesso in avanti ci piacerebbe dare una versione diversa della foto, dargli un racconto, dargli una tridimensionalità. Ed è questo il concetto di MyStreet.Foto. Finalmente dare spessore a ogni foto del mondo. Iscrivetevi, raccontateci la vostra storia attraverso le vostre immagini. MyStreet.Foto Iscrivetevi, raccontateci la vostra storia attraverso le vostre immagini. Iscrivetevi, raccontateci la vostra storia attraverso le vostre immagini.